E oggi vi parlerò di come funziona il Working Holiday Visa Australia, dei requisiti che bisogna avere, come richiedere il visto e quanti soldi servono per partire. Quel visto ce l'abbiamo di un anno, si può fare qualsiasi tipo di lavoro. In più puoi anche studiare per un massimo di 4 mesi, ovviamente a tue spese. Adesso vi volevo elencare tutti i requisiti che bisogna avere per richiedere il Working Holiday Visa Australia. Allora, il primo è che bisogna avere tra i 18 e massimo 35 anni. Secondo, non bisogna avere figli. Terzo, non bisogna avere problemi di crimini, problemi con la legge in passato. Quarto, bisogna dimostrare di avere almeno 5.000 dollari australiani che corrispondono a 3.200 euro all'incirca sul proprio conto.